Musica Oh bene bella gente youtube sono io il vostro Master Doom 93 Aspecies allora ragazzi bentornati tutti quanti sul mio canale per un nuovissimo video dedicato al mondo di Battlefield 1 In cui oggi in questo live commentary su un server vuoto sono qui per portarvi un'altra pesante critica verso il titolo di Battlefield 1 Allora vi starete chiedendo cazzo Master ma alla fine in questo periodo abbiamo trovato molti problemi riguardanti il gioco Nonché l'immenente bruttissima pace in avvicinamento che andrà a confermare quello che è l'ammo 2.0 al 100% Vedete ragazzi questo lo faccio per farvi capire che nonostante io sia un amante di Battlefield in generale e veneri in poche parole questo titolo Non vuol dire che io non possa criticarlo o comunque che io me lo faccia piacere soltanto perché magari mi fa tante visual e magari mi fa guadagnare dei soldi Assolutamente no Quando c'è qualcosa che non va io sono sempre quello in prima linea per portare il problema alla luce Il problema di oggi ragazzi riguarda il menu di spawn e in particolare qualcosa Allora come sappiamo nel menu personalizzazione noi possiamo personalizzare le nostre quattro classi principali L'assalto, il medico, il supporto e lo scout Che poi chi non l'avesse ancora visto e queste ragazzi sono le skin francesi dell'assalto, del medico, del supporto e dello scout Ma cosa cazzo manca in questa interfaccia? Ragazzi dov'è la diciamo classe del carrista e la classe del pilota? Cioè fatemi capire o meglio dove sono i menu di personalizzazione dei veicoli Perché il gioco mi obbliga per forza a selezionare il veicolo all'interno del menu di spawn Per sbloccare tutta la sottocategoria di classi da selezionare per poi finalmente personalizzarle Questa ragazzi è una cosa gravissima appunto di vista di gameplay Perché alla fine cosa succede e voglio sapere da voi nei commenti qui sotto Se anche a voi succede questa cosa che la ritengo veramente ma veramente brutta da vivere all'interno del gioco Ovvero che quando voi siete nel menu di spawn e avete selezionato per esempio il carro armato o l'aeroplano Nel mentre che voi state personalizzando il kit Quindi state selezionando la tipologia di car armato, di aereo L'arma che può utilizzare diciamo il pilota o il carrista O comunque anche quella che è la grafica personalizzata del vostro veicolo Quando voi siete pronti per spawnarvi il veicolo non è più disponibile Perché nel mentre che voi avete già selezionato il veicolo e siete pronti a spawnarvi Un altro giocatore vi ha rubato il posto, vi ha rubato il veicolo E mentre voi state personalizzando lui è già in partita E questa ragazzi la ritengo una grandissima stronzata Perché non è possibile che io dal menu di spawn ho selezionato il veicolo Quindi ufficialmente sono entrato io in possesso del veicolo E nel mentre lo sto personalizzando per poter entrare in partita come voglio io Arrivi un altro giocatore e mi prenda il posto E già questo fattore che le classi e i veicoli non possono essere personalizzati Finché io non clicco sull'icona del carro o dell'aeroplano È veramente qualcosa di ignobile Perché se vi ricordavate su Battlefield 3 e Battlefield 4 bastava andare nella sezione personalizza E già dove c'erano le quattro classi principali in alto c'era la sottosezione dei veicoli e degli aerei Così vi permetteva diciamo in qualsiasi momento di cambiare gli asset dei veicoli Per poi entrare subito in partita quando magari il carro armato o l'aeroplano era disponibile per lo spawn Questa cosa su Battlefield 1 non c'è Perché abbiamo soltanto i sottomenu delle classi predefinite come Scout 2, Scout 3 E diciamo i profili predefiniti delle classi Mentre quello dei veicoli noi siamo obbligati dal gioco a selezionarli dal menu di spawn Stessa cosa vale come la cavalleria Anche la cavalleria non può essere modificata finché noi non clicchiamo sull'icona E veramente ragazzi questa cosa mi fa girare le palle Perché più di una volta, anzi possiamo dire quasi sempre Nonostante io abbia selezionato il veicolo E magari stia decidendo di non so cosa utilizzo Il carro leggero, il carro pesante Utilizzo la versione, non so, con i colpi da 75mm Quello antifanteria, quello anche aereo come per esempio l'artiglieria O addirittura il Saint-Chamond Quale potrò utilizzare fra i tre? Sono indeciso tra quali Nel mentre che io sto selezionando Vedo tranquillamente che l'icona diventa rossa lampeggiante E vedo il veicolo che parte sulla mappa tranquillo Mentre io, nonostante l'abbia selezionato, ripeto Sia pronto per spawnarmi E questa ragazzi è veramente, non so, una noia immonda Quindi questo video ragazzi era incentrato proprio su questo Su questo problema dello spawn che nonostante voi me l'aviate già Diciamo segnalato più di una volta Io non ho voluto fare il video fin da subito Perché semplicemente eravamo ancora agli albori di Battlefield 1 Ma dopo praticamente già tre mesi, barra 4 dall'uscita del gioco E ben due patch principali Non vedo il come mai la DAI se non voglia implementare la personalizzazione dei veicoli Delle classi come il carrista e il pilota Nella classica personalizzazione dei soldati Ovvero dove possiamo personalizzare le quattro classi principali Quindi che dire ragazzi, spero che questo video sul mondo di Battlefield 1 vi sia piaciuto E vi abbia stappato un sorriso Ditemi qui sotto la vostra su cosa ne pensate Di questa cosa e se dà fastidio anche a voi Lasciate un mi piace unicamente solo se il video vi è piaciuto realmente Condividete questo video sui vostri social network per aiutare il canale a crescere E iscrivetevi al canale per continuare a seguire nei futuri video di Battlefield 1 Io ragazzi penso di aver detto tutto quanto Noi ci vediamo al prossimo video Un saluto e abbraccio il vostro Master Doom 93 E niente ragazzi, io vi ringrazio di cuore per il mega supporto che state dando ai video di Battlefield 1 Veramente, vi ringrazio tanto e sono felice Anzi, sono al settimo cielo di vedere questi risultati con il mio lavoro Quindi sono felicissimo che i miei contenuti siano di così tanto alto gradimento da parte vostra Quindi che dire ragazzi, noi ci vediamo alla prossima Oh yes bitches, oh yes Ah 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 We make the streams louder Ehi no, 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 no